Il Ministero della Salute ha pubblicato sul suo sito in data 2 dicembre il richiamo delle focacce con olio extravergine d'oliva all'8,7% del marchio Tremolini. Il nome ragione sociale dell'Osa, nome del quale il prodotto è commercializzato, è Eurospin Italia S.p.A. Il nome del produttore invece è Fartons Polo, mentre la sede dello stabilimento si trova presso poligono industrial 3 Calle V.Meters 15 4620 Alboraya Valencia Spagna. I numeri di lotto delle focacce all'olio extravergine d'oliva ritirate sono quelle contrassegnate con il numero 223740. La data di scadenza o termine minimo di conservazione delle focacce richiamate sono fissati per il 13 gennaio 2023, mentre il formato è di 200 grammi. Il Ministero della Salute informa che non è necessario lo scontrino per la restituzione. Grazie per la visione!